ok la diretta è iniziata e quindi parto subito a razzo tanto chi c'è c'è chi non c'è la vedrà dopo se vuole quindi è utile aspettare buongiorno a tutti e a tutte avevo annunciato promesso questa diretta la scorsa settimana e quindi eccomi qui bando alle ciance mi sono segnato un paio di cose che voglio dirvi in realtà anche questa è una diretta molto molto improvvisata e senza e senza tanti fronzoli ora il tema è questo il tema è il votare o il non votare chi votare che poi appunto è il titolo della live di oggi il 25 settembre ci sono le nuove elezioni e quindi chiaramente è un argomento di cui adesso si parla e se ne parlerà sempre di più fino al 25 settembre mi stupisco sinceramente della quantità di persone che mi domandano consigli diretti su questa cosa Matteo dimmi chi votare dimmi se votare addirittura ora certo la cosa mi può anche far piacere nel senso che vi ringrazio per la stima e per la fiducia che riponete nei miei confronti ma non la trovo una cosa eccezionale ecco voglio dire ognuno di noi dovrebbe crearsi la propria idea la propria opinione a riguardo senza senza farsi imboccare no da da quello che magari può considerare un punto di riferimento un leader eccetera cosa che tra l'altro non voglio assolutamente essere e quindi ecco io vi do vi do come al solito il mio punto di vista ma vi invito a non prenderlo assolutamente come oro colato vi invito ad aggiungerlo magari ad altri punti di vista e alla fine a decidere in maniera personale ad assumerci ad assumervi le proprie responsabilità delle proprie scelte ecco questo è che è la prima cosa che voglio dirvi ok ora io purtroppo sono sempre più convinto come diceva Mark Twain che se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare ne sono sempre più convinto vi dico la verità ho sempre votato da quando ne ho avuto la possibilità e sono sempre stato convinto che votare fosse un diritto importantissimo e un dovere negli anni col tempo sto cambiando un po' opinione soprattutto in questo periodo storico con questo sistema elettorale in questa italia in questo occidente eccetera eccetera ecco sono sempre più convinto ripeto che se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare a tal proposito voglio suggerirvi la visione di un video un video che trovate su youtube e che potete trovarlo semplicemente cercando operazione gladio operazione gladio dal creato dal canale nova lectio ma lo trovate facilmente cercando operazione gladio poi come al solito lascerò il link nella descrizione del mio video su youtube perché questo video in diretta su facebook poi lo caricherò anche su youtube e lì metterò il link a quello che sto dicendo ecco perché vi consiglio questo video che si chiama operazione gladio perché è un video di quasi 40 minuti impegnativo da guardare da seguire perché è pieno di nomi di collegamenti di date ma molto importante perché vi fa render conto vi fa render conto di quanto manovrate sono le elezioni e in generale la politica in italia dal dopoguerra a oggi è un video molto utile soprattutto a tutti coloro che credono che i complotti e le cospirazioni siano fantascienza ecco questo video che vi racconta dell'operazione gladio riporta fatti successi riporta fatti storici non ci sono opinioni non ci sono punti di vista non ci sono idee no vi dice quello che è successo soprattutto nell'ultimo secolo in italia e ancora di più dal dopoguerra in poi da quando ovvero siamo diventati in tutto e per tutto colonia degli stati uniti d'america e in questo video vi viene spiegata l'influenza degli stati uniti d'america sulla nostra politica influenza che c'è ancora è innegabile anzi anzi lo vediamo no negli ultimi mesi cosa è successo ecco allora capite bene che di fronte a informazioni come queste pensare che veramente viviamo in una democrazia nella quale i cittadini possono scegliere da chi essere rappresentati in parlamento e che quegli rappresentanti parlamento porteranno avanti le tesi le proposte le promesse fatte al proprio elettorato è un po' ingenuo è un po' ingenuo ok ecco perché sono un po' disilluso di fronte a tutto questo oltre a ciò come alcuni di voi sanno io ho avuto modo in passato di lavorare dentro a quelli che chiamano i palazzi del potere perché per tre anni e mezzo ho affiancato un parlamentare della repubblica italiana un parlamentare che poi tra l'altro è diventato ministro quindi ha fatto il suo percorso ecco in quei tre anni e mezzo ho visto tutta una serie di cose e la cosa principale che ho visto è che lì all'interno dei palazzi del potere di roma non si decide niente non si decide niente le cose importanti si decidono altrove si decidono a bruxelles a berlino a parigi e a washington le cose che ci riguardano ok è lì che si decidono a roma si eseguono delle decisioni prese da altri e poi si decidono piccole cose si ecco le piccole cose si decidono ancora è vero le piccole cose ma non le decidono i parlamentari non le decidono neanche i partiti le decidono gli decidono le alleanze le lobby le influenze esterne ecco come funziona la politica in italia e quindi chi mi continua a venire a dire no bisogna andare a votare altrimenti non cambierà mai niente altrimenti se non vai a votare sei responsabile del non cambiamento ma ragazzi miei oltre a tutto quello che vi ho appena detto ci siamo dimenticati tutti forse dell'esperimento perché quello è stato dell'esperimento 5 stelle cioè ci siamo dimenticati del fatto che abbiamo mandato su un partito nato dal nulla dal basso da zero fatto di gente di persone oneste vi ricordate no queste parole onestà trasparenza che aveva un determinato programma abbiamo abbiamo portato quel partito al 35 38 per cento sfiorava il 40 per cento a un certo punto di consensi e poi una bolla di sapone il nulla cosmico nessuna delle promesse elettorali che hanno fatto è stata rispettata hanno fatto più danni che altro e in questo periodo stiamo vedendo gli ultimi gli ultimi tiri di schioppo di in che cosa sta finendo il movimento 5 stelle lo squallore in cui finisce anche questo esperimento politico del movimento 5 stelle ecco allora di fronte di fronte a tutto questo continuiamo a credere di poter cambiare le cose con il nostro voto piccoli genui che non siamo altro allora oltre questo stiamo parlando di nuovi partiti antisistema perché chiaramente io parlo so perfettamente alle persone con cui parlo non tutte non tutte per fortuna io riesco e sono contento di poter raggiungere anche persone che non la pensano assolutamente come me e mi sforzo di farlo perché mi sforzo anche di ascoltare chi non la pensa come me quindi non parlo solo a un certo tipo di elettorato però la la il nociolo duro no la la fetta principale le persone a cui parlo sono persone indirizzate a partiti antisistema ok perfetto bene gli attuali partiti antisistema è già tanto, è già tanto se superano lo sbarramento se superano il 3, il 5% è già tanto, è già un grande risultato e voi veramente credete di poter cambiare le cose, di poter cambiare l'Italia mandando su un partito che prende il 5% quando non si è riusciti con partiti che avevano il 35% veramente io un po' vi vi invidio vorrei anche io avere un po' questa questa vostra fiducia, io non ce l'ho più ecco, non ce l'ho più sono contemporaneamente anche convinto che oggi la politica si faccia al di fuori di quei palazzi del potere sono convinto che la politica oggi sia un'altra roba, sono convinto che oggi si faccia molta più politica non quando si entra in una cabina elettorale ma quando si entra per esempio in un supermercato o meglio ancora quando non si entra in un supermercato è lì che fai politica oggi è lì che fai la politica vera reale, quella che può cambiare le cose la politica oggi è creare nuove scuole parentali asili nel bosco homeschooling la politica oggi è aprire nuovi gruppi di acquisto solidale la politica oggi è coltivare un orto quella è la vera politica è creare orti condivisi orti urbani quella è politica la politica oggi è fondare un nuovo ecovillaggio una nuova comune una nuova associazione culturale una nuova associazione di promozione sportiva, sociale questa è la vera politica la vera politica oggi è uscire dal sistema sganciarsi riconquistare la propria indipendenza energetica alimentare la propria sovranità questa è la vera politica è su questo che secondo me bisogna lavorare è per questo che io ritengo che tutto il resto la politica tradizionale sia tempo perso tempo, energie, risorse, denaro perso per questi motivi qua perché credo fermamente nel fatto che la politica sia un'altra cosa rispetto a quella che invece ci raccontano ancora in televisione e dai palazzi del potere quella è una politica morta è una politica morta in cui chiaro, loro continuano a mandarla avanti ma è una politica finita non può più funzionare non rappresenta più nessuno cioè è come se fossero dei dinosauri in via d'estinzione chiaro si fanno di tutto per tenere su ma è un castello di carte che sta crollando giorno dopo l'altro e io la penso così e io vado quindi in quella direzione non ho tempo da perdere a candidarmi a fondare nuovi partiti a foraggiare nuovi partiti a sostenere partiti di qua di là alleanze inciuci compromessi perché poi alla fine va tutto a finire così perché se entri in Parlamento col 5% non conti una fava è come se non ci fossi non esisti allora nel momento in cui entri col 5% devi cercare di allearti a qualcuno ed ecco che torniamo alle solite cose trite e ritrite ora l'attuale classe politica che abbiamo a Roma e che in molti credo siamo d'accordo faccia schifo ok è una rappresentanza della società non possiamo avere questa presunzione di dire la società è migliore della classe politica come se tutti i peggiori fossero tutti insieme dentro là ai palazzi di potere di Roma non è vero non è vero la classe politica è una rappresentanza della società se vogliamo una classe politica migliore dobbiamo costruire una società migliore questo va fatto altrimenti continuiamo a correre come un cricetto dentro alla ruota e alla gabbia che gli è stata costruita e non ne usciremo mai perché non è che noi di punto in bianco ci troviamo lassù ad avere dei politici virtuosi onesti trasparenti che pensano al bene dei cittadini che hanno a cuore le tematiche ambientali la sostenibilità ma di che? ma dove? no prima bisogna costruire una società di un certo tipo e poi in maniera fisiologica naturale automatica si creerà una classe politica di un certo tipo e allora e allora io è là che piuttosto spendo e investo il mio tempo le mie energie le mie risorse a cercare di costruire una società migliore quella è la direzione in cui vado spero di essermi un po' spiegato poi è chiaro che tutto quello che dico è opinabile potete darmi del bifolgo come potete essere d'accordo ma questa è la mia visione e ve l'ho argomentata non è che ce l'ho perché una mattina mi sono svegliato e ho detto ah ok secondo me oggi è così no un po' sono esperienze di vita un po' è la storia un po' sono sono le informazioni che ho raccolto e messo insieme in questi anni e un po' è quello che vedo che continuo a vedere tutti i giorni ora l'ho già detto lo ripeto anche in questa diretta per completezza di informazioni io negli ultimi anni ma soprattutto negli ultimi mesi e ancora di più nelle ultime settimane ho ricevuto svariate proposte e richieste per candidarmi ok anche con alcune garanzie devo dire la verità perché sapete che poi succede questo in questo sistema in questa società nel momento in cui una persona ottiene un po' di visibilità un po' di notorietà un po' di popolarità un po' di voce automaticamente si pensa alla politica perché? perché fa comodo perché nel momento in cui tu ti riesci ad ottenere quella poltroncina diventi un parlamentare ti sei sistemato a vita questa è la verità questa è la verità e allora io non voglio giudicare né criticare tutti coloro che adesso hanno deciso di scendere in campo di metterci la faccia e di candidarsi ognuno fa le proprie scelte non è in questo caso la mia strada come ho già detto ho risposto a tutti no grazie io sono un giornalista continuerò a fare giornalista e solo questo perché è quello che mi interessa fare per tutti i motivi che vi ho anche detto detto questo ripeto non voglio giudicare chi invece ha fatto scelte diverse però voglio dire una cosa e voglio togliermi un sassolino nella scarpa pazienza se diventerò antipatico ad alcune mie conoscenze però insomma ormai ci ho fatto il callo e chi mi conosce sa che parlo senza filtri e del consenso non me ne ha mai fregato nulla tanto meno adesso tanto meno adesso non prendiamoci in giro non prendiamoci in giro col fatto che ci si candida per portare all'interno dei palazzi una determinata battaglia piuttosto che per questo e quell'altro sicuramente tra i candidati ci sono molti anche che hanno buoni intenti ma la maggior parte di coloro che si candida tanto più i momenti di questo tipo è perché sa che potrebbe essere l'occasione giusta per sistemarsi a vita ok per diventare un parlamentare e sistemarsi a vita perché diventare parlamentare oggi vuol dire avere una busta paga di 15.000 euro al mese avere tutta una serie di benefici la sanità pagata i servizi di qualsiasi tipo pagati si sistema tutto si sistema la propria famiglia il proprio lavoro non ci si deve più preoccupare di niente e si entra e si entra in un'astronave che va che va al di fuori del mondo reale ok ecco questo è quanto quindi quindi anche l'ipocrisia di alcuni che in queste settimane sbandierano la propria discesa in campo come il voler cambiare le sorti dell'Italia la società a me suona un po' da 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 perché queste persone sanno perfettamente che una volta entrate nei palazzi non conteranno nulla perché non stiamo parlando di persone che si candidano con partiti che hanno il 20 25 30 per cento o anche solo il 15 per cento di percentuali voto stiamo parlando di piccole realtà detto questo detto questo voglio anche voglio anche dirvi quello che farò io perché sapete che a me non piace dire fate questo fare quell'altro io non do consigli raramente do consigli do direttive do indicazioni spesso dico quello che faccio ad esempio sapete perfettamente che io negli ultimi due anni ho fatto e continuo a fare principalmente tre cose resisto faccio rete disobbedisco ecco per quanto riguarda la questione del votare non votare chi votare eccetera delle elezioni io penso che andrò a votare nonostante tutto quello che vi ho detto penso che andrò a votare e penso che andrò a votare votando uno dei piccoli dei tanti partiti antisistema che sono nati negli ultimi mesi baranni penso che andrò a votare uno di questi partiti perfettamente consapevole che il mio voto è del tutto inutile è un paradosso sono uno scemo eh sì può essere può essere ma però però penso che farò così non sono ancora sicuro ma penso che farò così perché farò così perché comunque credo che sia giusto dare la possibilità a qualcuno di quelli che sono scesi in campo di portare determinate istanze all'interno del Parlamento però non voglio perderci un secondo in più ecco diciamo che spendere mezz'ora per andare a mettere una X sopra un logo per me è un compromesso che può starci può starci perfettamente consapevole ripeto che quel mio voto non cambierà nulla se non pochissimo ecco questa è un po' la mia visione in questo momento a meno che non c'erano grandi stravolgimenti poi il giorno prima potrei decidere di non andare proprio però ecco questo è un po' quello che penso e volevo condividerlo con voi contemporaneamente cosa faccio? contemporaneamente non spreco assolutamente il mio tempo a guardare i talk show i dibattiti a leggere i programmi che rubai o le promesse elettorali che non ha nessun senso secondo me ascoltare perché sono il nulla cosmico è la fufa totale quindi non spreco un secondo del mio tempo per star dietro a nessuno ok? invece continuo a dedicare le mie energie e risorse per quello di cui parlavo prima per cercare di costruire una nuova società abbiamo creato questa piattaforma che si chiama farerete.org che è una semplice bacheca che aiuta i cittadini a mettersi in contatto tra di loro ma pian piano sta crescendo stanno crescendo nuovi movimenti nuove associazioni culturali nuovi progetti nuove iniziative molto interessanti e io vado in quella direzione là a tal proposito di iniziative che stanno nascendo ve ne segnalo una che ho scoperto di recente ma che ritengo molto interessante soprattutto per tutti coloro che invece in maniera legittima legittima e comprensibilissima secondo il mio punto di vista non hanno nessuna intenzione di andare a votare ecco è nato questo progetto sta nascendo è ancora in fase embrionale che si chiama astensionecostituente.it quindi vi consiglio di andare a vederlo anche questo lo lascerò nella descrizione dei video su youtube si chiama www.astensionecostituente.it stanno nascendo dei comitati in giro per l'Italia di persone di persone che non accettano l'etichetta dei nulla facenti nel momento in cui decidono di non andare a votare che non accettano di sentirsi responsabili dello sfaccello politico e sociale che c'è in questo paese solo perché non vanno a votare il meno peggio solo perché non vanno a votare tappandosi il naso ecco non accettano tutto questo perché sono comunque invece cittadini attivi e il più delle volte vi dico un segreto lo dico là fuori ai miei colleghi giornalisti del mainstream a quelli che riempiono le pagine dei giornali mettendo le etichette di quelli là vi dico un segreto negli ultimi anni le persone che non vanno a votare le persone che non hanno più voglia di far parte di questo sistema quelle persone sono probabilmente i cittadini più attivi che ci sono in Italia sono probabilmente le persone che stanno facendo più il mazzo per cambiare questa società e non lo fanno andando a mettere una X sopra un logo e quindi delegando e quindi togliendosi le responsabilità vere di essere cittadini non lo fanno così lo fanno costruendo progetti ogni giorno lo fanno cercando di andare in una direzione completamente diversa di quella che è la direzione della massa che continua invece a fidarsi e ad affidarsi così per partito preso ok a occhi chiusi ecco e allora tutte queste persone qua o una parte di queste si stanno iniziando anche a a contare e a mettere insieme all'interno di questo progetto che si chiama astensionecostituente.it che lo trovo molto interessante quindi ecco vi do questo spunto in più io penso di avervi detto più o meno tutto quello che dovevo dirvi lasciatemi un commento fatemi sapere cosa ne pensate condividete questo video se volete condividerlo e per il resto basta vi lascio con una citazione che è un proverbio turco di tanti anni fa che però lo trovo ancora incredibilmente attuale che ho inserito all'interno del mio del mio libro manuale di sopravvivenza per esseri umani che sentono alieni eccolo qua questo qua è il proverbio vi lascio con questo qua che è simpatico questo proverbio turco diceva così e gli alberi votarono ancora per l'ascia l'ascia era più furba e li aveva convinti che era una di loro perché aveva il manico in legno ecco secondo me va un po' così va un po' così questo mondo storto oltre al fatto che bisognerebbe poi star qui approfondire parlare del sistema che abbiamo messo in piedi e di cui tanto ne andiamo fieri questa parola che si chiama democrazia che non sappiamo neanche più bene che cos'è ma di cui ci riempiamo la bocca la esportiamo perché è una cosa talmente bella che abbiamo deciso che bisogna esportarla che tutti devono vivere all'interno di questa democrazia che cos'è la democrazia boh dalle mie parti quello che so io è che la democrazia è anche quella cosa in cui sei stolti valgono più di quattro intelligenti no ecco è questa la grande democrazia e in più il sistema in cui viviamo non è neanche questo perché la democrazia in cui viviamo è anche completamente finta è distorta e non è neanche più una vera democrazia e quindi è tutto un paradosso andrebbe ricostruito rifatto tutto dalle fondamenta dalle fondamenta oltre a questo pensate che vi parla uno che metterebbe la patente per il voto io secondo me bisognerebbe passare un esame per andare a votare perché altrimenti non si può basare appunto il sistema politico sulla democrazia dove appunto in teoria ognuno vale allo stesso modo e dove è la maggioranza a decidere e poi c'è una maggioranza che vive in una realtà completamente distorta perché si informa da una stampa che è completamente strumentalizzata satura pregna di conflitti di interesse di questo di quell'altro e quindi gli racconta una realtà che non è vera e poi tu però vai a votare credendo di vivere in un mondo di un certo tipo ecco io metterei una bella patente di voto dieci domande di cultura generale sì, no, vero, falso passi, passi quell'esame puoi votare hai diritto di votare non lo passi non puoi votare ecco io la vedo così e sarei il primo chiaramente a starmene a casetta se non dovessi passare quell'esame e probabilmente non lo passerai neppure io però insomma anche questa potrebbe essere una nuova forma di democrazia è una provocazione e uno spunto finale basta vi ho detto veramente tutto quello che volevo dirvi e vi ringrazio per avermi seguito anche oggi eravate tantissimi condividete il video lasciatemi un commento qui sotto e ci sentiamo alla prossima un saluto a tutti un abbraccio grazie a tutti